Siamo nel 1987, esce un album strepitoso che è la prima vera prova per il grande pubblico del rock. Dopo una partenza da un proprio brillante, riesce in poco tempo a superare le 15 milioni di copie, una vetta impensabile per l'esordio di un gruppo di ragazzi come i Guns, dall'età media di 25 anni con una vita tutta sesso, droghe e rock and roll. Questo album splendido parla di notti passate in compagnia di prostitute, tra alcol e droghe di ogni tipo e della loro vita spericolata on the road.